Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code e attratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 code e attratti tra Pisa Centro e l'allacciamento con la 11 verso Genova, spostandoci sulla Fibillir, rallentamenti per il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Tratto chiuso per una perdita di carico tra Livorno e Darsena Toscana Est in direzione Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della tramvia al Via Oggi Lavori in piazza San Marco, viale Lavagnini, largo Martiri delle Foive, viale Milton. Ed è tutto, buon viaggio!